Ben a tutti ragazzi, nuovo video, piccola intro prima di lasciarvi con il video vero e proprio Allora, non so se succede a voi ma a me molto spesso, ci sono momenti della giornata in cui mi sento veramente rincoglionito che Per esempio quando se mi metto a giocare non vedo un cazzo, cioè vedo appannato, vedo strano, non ho riflessi pronti e cazzate varie, ok Io registro quasi sempre esclusivamente in questo momento perché è uno dei pochi momenti in cui ho a disposizione tempo per me Da perdere, cioè da perdere, per svago Allora, da notare in questo cazzo di gameplay che, a parte essendo la prima parte del giorno la mira faceva schifo, i nemici non li vedevo Io rivedendo il video dopo mi sono accorto che mi passavano a destra e a sinistra e non li ho visti durante la partita, cazzo Praticamente perché la mattina mi sveglio troppo presto, la sera faccio troppo tardi, pomeriggio devo dormire o prima di dormire o dopo dormito Sono rincoglionito in tutti e due momenti e sono questi due momenti in cui ho a disposizione il tempo per registrare Viene quello che viene, il gameplay ma fa niente Però grazie al perk tiratore scelto, se non erro su mp3, cioè il tiratore scelto Sono riuscito bene o male a vedere almeno quelli davanti mentre miravo Quindi ragazzi adesso vi lascio, a parte questa piccola intro, vi lascio con il video vero e proprio Ci sentiamo e ci vediamo con il prossimo, bella Ed eccoci qua ragazzi con un nuovo live, siamo su mp3, adesso vi spiego anche i motivi perché siamo su questo gioco Allora mi avete chiesto perché non compro Ghost, non compro Ghost per un semplice motivo Mi fa schifo, è un gioco di merda, lo considero schifezza assoluta Ma perché? Troppo simile ad mv3 ragazzi Ho visto dei movimenti, perk, gameplay proprio, è molto simile ad mv3 Io considero Infinity Ward una casa produttrice di merda L'ultimo gioco serie è stato mv2, è stato un bellissimo Call of Duty poi si è persa, mv3 è stato proprio uno schifo Troppe stronzate, conta troppo la connessione ragazzi Cioè ho sempre tre tacche e mi shot in una maniera incredibile Mentre per esempio su Black Ops 2 ne ho quasi sempre quattro E alla fine la connessione per quella che è va bene E in più troppe stronzate, troppo... come posso dirvi? Non mi è piaciuto, mi incazzavo, quando ci giocavo mi incazzavo a bestia Mentre su Black Ops 2 me ne ero quasi dimenticato Cioè io mi incazzo per scherzare su Black Ops 2 Quando gioco e faccio i live, se no non mi incazzo quasi mai Cioè raramente mi succede E siamo sempre mv3 giusto per... Perché voglio parlare di Ghost ed eccomi qua Sicuramente lo comprerò, lo comprerò per quale motivo? Perché raramente gioco con i miei amici Però ormai loro hanno tutti i Ghost Quindi se voglio fare qualche partita con loro Alla fine lo devo comprare E in più perché YouTube richiederà questo gioco Per prendere visualizzazioni e per far arrivare iscritti al canale Un'altra cosa Adesso non so se comprarmi o no L'Xbox One o PlayStation 4 Sono più indirizzato su Xbox One per vari motivi Sono indeciso perché io ormai A me piace un casino, mi piace informarmi su un mondo dei videogiochi Mi piace un po' tutto Però ho perso quella passione, quell'atmosfera che avevo prima Ma già ormai da un anno e mezzo io continuo a giocare per YouTube Non lo so cosa mi sta succedendo Non dite che sto crescendo perché ho 22 anni Fino a 21 anni, 20 anni, da due anni fa giocavo Che era... Cioè non è giocavo tantissimo Però ogni volta che giocavo anche un gioco che non era online Avevo... sentivo quell'atmosfera e mi piaceva Adesso non riesco a giocare un cazzo Che è una cosa bruttissima Che un po' mi dispiace Però va bene Va bene così Cioè magari cambiano le passioni Uno cresce Non cresce d'età Cresce... non lo so Una crescita mentale, spirituale Buttiamola così ragazzi E quindi magari... Non dico perché chi videogioca è piccolo Non pensate questo perché alla fine Io giocherò fino a 60 anni, 70 anni Mi farò partire con mio figlio Cioè mio figlio a 20 anni giocherà a FIFA a 65 E io giocherò insieme a lui Cioè è semplice O Call of Duty Black Ops 32 Intanto qua non c'è un cazzo ragazzi Siamo in 2, in 3 a giocare Cacca cosa M e V3 stanno tutti su quella merda di Ghost Comunque sì probabilmente per Natale mi compro l'Xbox One Quindi è inutile spendere 70 euro adesso Per un gioco che non ti piace quindi Dom, perfetto Già iniziata sicuramente Prima partita del giorno Vediamo come va Cioè non ricordo bene neanche Bene o male è come Black Ops 2 Un po' diverso Sì quello sta già a 9 Però 9-1 quindi E io già muoio così Che cazzo è? Che mira di merda che ho raga Vabbè però è inutile Facciamone più di una partita Tanto mi ero fatto la classe Ho allevato quella merda di Ma quello è un nemico Non l'avevo visto raga No Che culo raga Che culo L'elicot... No vabbè raga No Lol Oh ma perché i colpi sono arrivati alla fine? Cos'è? Quello sta già a 14 Oh Ma che spawn è? La mia... Oh Ce n'è uno qua Non mi fotti bello Non mi fotti Neanche te mi fotti Dov'è? Un altro IMS Oh ce n'è uno là Cioè sono entrato in partita raga Oh no Cazzo Bomba di merda Ce n'è uno qua Camper al verme Vabbè Vabbè distruggi pure la... Vabbè distruggi pure la... Poi lo shotta Vabbè se continuo così raga Ma il mio elicottero Ma il mio elicottero... No Da dietro Frocio di merda Ma dov'è? Era questo Ah il mio elicottero non killa più perché... Ha deciso Ok il mio elicottero non so dove cazzo andava Dove è andato? Non killa più O l'hanno distrutto le merde? Dovrebbero No vabbè mi hanno flashato la vita Più deve questo Rialzati Cristo Oh No vabbè la macchina Ma sto... No Vabbè sto perdendo ragazzi sto perdendo Vabbè QB... Che cazzo c'ha questo? È Dio Sta qua Dov'è? Avevo fatto una rimontata raga Che va dell'incredibile Purtroppo mi sono fermato Ma ho fatto Ma che cazzo fanno quelli in due? Ma che è? Mafia Vabbè è mortale quello Sì sì No Ma ha colterrato dove era? Vado a perdere così rega Ho iniziato troppo bene Cristo Coglione E la mia mira di merda Cristo Guardate la mia mira rega È la mia prima partita Vabbè ho perso Lo sa 1350 I tedeschi di merda Oh l'IMS che funziona ogni tanto Cristo Oh torretta robot Torretta robot di merda Vieniamo dalla Rega L'ultima kill Sì Che cazzo di partita rega Cioè vabbè Diciamo che mi ha detto bene Oppure troppo bene Tantissimo Non già questo videogame Sinceramente Spero che il video vi sia piaciuto Scusate per l'inizio Questo è stato abbastanza Come posso dire Abbastanza cattivo Con la serie Call of Duty Specialmente su Infinity Ward Però è così È quello che penso Quindi Spero che vi sia piaciuto il video Vi aspetto Con un altro live Perché ormai faccio solo quelli Infatti Cioè dovrei incominciare A pensare qualcosa più serio Per il canale Qualcosa di più Serio Di più bello Da vedere Perché faccio sempre live Un po' scoglionate Così a cazzo Senza Senza senso Dovrei portare avanti il canale Più regolarmente E soprattutto Con qualcosa Ben di preciso Non cazzate così Quindi ragazzi Ci vediamo con il prossimo video Spero sia Il più presto possibile Bella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti